Svon 0-4 che dipende a chi è l'interno. Allora, siamo all'inaugurazione della Coppa Carnevale. E giocherà l'Inter di merda. Forse è Inter. Merda. Inter è Inter. L'Inter è l'Inter, da quando. Appunto, l'Inter è l'interno. E' il bidello di tua madre. E' niente, qui c'è l'associazione Pancev. E' finito. Forse è Inter. Forse è Inter. Che bei tifosi che ci sono. Non scherzo, sono di là. Che se fai? Faccio il video. Però lì c'è la panniera di lui. Uno ce l'ha. E'ここà. E' te. Amici, ci sono tutte. Voglio dire qualcosa. Devo dire qualcosa. Ecco. Te, bici. Porta Juve. Porta Juve. Juve, Juve, Juve. Oh, te devi sempre dire qualcosa. Vivala. Stop. Ecco. Juve, Juve. Merda, 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 merda. Eh, bravo. Ma fanculo. Oh, guarda me le scoperte. Uh, ci sono tutte le scoperte. Le scoperte, i pevolos. Le tue, mi vede? Ci sono lì, non si fa sin vedere. No, non si fa vedere. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. E' un nuovo concino si stiene. Aspettiamo un po' poi, facciamo tutto il giro dello Stadio dei Pini. Con un vero spirito di collaborazione con questa situazione importantissima che ci sarà per il giuramento della verità su questa umana tragedia che colpì la nostra città. No alla prescrizione, questo è l'ultimo slogan importante per evitare proprio che cada il silenzio su questa tragedia che invece vuole che siano individuati i responsabili dal più presto. Perché c'è uno con la casacca della Lazio? Il mondo che vorrei Buongiorno Buongiorno, buongiorno, grazie a te tanto Sì, buongiorno 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 anche a te Eccolo l'Inter E' 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 l'Inter Mammaa Ma non si vedrà nulla perché c'è il sole Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale Si brucia Si brucia Si brucia Poverino Vai avanti Ma vai avanti Che lo devo schiacciare Lo ragioniamo dell'ombra Intanto guardiamo le ambulanze Sei un filocchio Dai, hai rotto le pelle Sei un filocchio di me Prima qui c'era una Maseratima E chi se ne frega? Eh, non si vede nulla Eh, perché sei così brutto, che c'è io? Ohhhh Guarda che fai la fine di quello là, eh Ma ti fai un paio di azito Quello qui E' con l'ombrellino Cosa? Si... Ma... Vedi? Guarda il numero 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 c'è il sole aggiunge l'interclub di lucca merda se vede alla fine di questo video se ne sono andati erano tutti i lucchesi perché a te ti seguino solo i lucchesi no, sì, i lucchesi, barna, barna va a lucchesi ma io vado a me mi pare, mi piace la giù c'è, ah no, c'è dietro l'interclub di lucca merda vai morito, vai avanti, mori la giù ci sono tutti i giocatori la giù c'è, è un sigilo guarda la giù, ciao i fischi, i fischi, i fischi per lui credibile extra, con un'intrazione dai vado a me tutti i lucchi dai ma secondo te c'è con gobbia ma che con gobbia ma chi c'è lombardi, vai dietro lombardi, vai dietro ma ti fa un po' io scherzo ma va a fanculo a testa di micio il logo non è accettato non va cavolo, l'hai visto le scarpe alte con le 10r7 oddio bello è un più bello è un più bello è un più bello di quelle tutte bianconere con le 10r7 forza inter che dici diventino di merda grazie ma stanno apprendendo ma dai l'ho provato non ho ibrici chi socialmente non è stato hanno detto portaiù e rivolto chi è? portaiù dire secondo me sono tipo manichini perché lei si va così portaiù e ovviamente l'altro stavano c'ho paura e fatti rimanere di merda e fatti rimanere così perché sei brutto l'hai prestificato comunque venerdì questo farò la crossbar challenge vero? ecco ora fa il giuramento saluta e metti i quattro a cinque dai che schifo ah non ti lascio a filmare dai si è sempre lì vai è sempre vivo le palle l'avete viste ora non basta che dire viva la top meno male viva la top e poi è sempre